La cultura deve considerarsi un bene primario Il prototipo di Gran Cassa, quindi Gran Cassa in fronte diciamo i sonagli è un prototipo pensato da Aleppo è un'ottativa di modelli prima di legno e adesso è di rame completamente e quindi ha un suono molto più carinone Taglio la mano con una lama Noi suoniamo in duo, questa è una certezza per noi nel senso abbiamo un feeling ormai ben consolidato di Alessandro ogni tanto abbiamo voglia di confrontare, di far suonare le nostre canzoni a altre gente gente che ci piace abbiamo suonato in 5, abbiamo suonato in 4, abbiamo suonato in 3 e ogni volta è stato diverso Siamo stati in America due volte nel 2013 a suonare a un festival nel South by Southwest e l'anno scorso a mixare il disco avevamo in mano dei pezzi che dovevano avere il miglior trattamento possibile Abbiamo visto ascoltare dei dischi che ci sono piaciuti di altra gente come i Kalexico eccetera eccetera e abbiamo visto questo Craig Schumacher che è stato poi il nostro uomo infatti ha dato esattamente il sound che il disco meritava e quello di cui avevamo bisogno noi Abbiamo cominciato per una passione che abbiamo praticamente da sempre con il canto politico e in maniera particolare con quelli anarchici perché sono quelli che sentiamo più nostri siccome le problematiche sono rimaste le stesse e per certi versi sono anche più attuali di prima noi abbiamo sentito il piacere di dover registrare Ho organizzato questo concerto e tutta l'associazione ci ha messo il cuore l'ho visti lavorato, dei ragazzi giovani ci hanno messo proprio sudore, voglia e palle e quindi da paura Sto a morire ma non piango e non tremo Grazie regà, grazie mille Abbiamo lavorato con Besserare, siamo stati a Taranto insieme a Lecce e poi a Roma abbiamo fatto tre date è stata una bella esperienza La canzone con Besserare è la crisi che parla della crisi poi abbiamo fatto il canto degli affamati in un certo senso parla del lavoratore dal punto di vista del proletario ma comunque è una crisi bruttesca si parla di fame, degli affamati poi la Charlie Chaplin, la Totò che si mangiava, non so, il piatto voto Ciao, Radio Libera a tutti Bel nome, Benaradio Bella a tutti